Buonasera a tutti, tutti i tifosi Hangover, siamo qua con la seconda presentazione per la cosiddetta seconda squadra, gli Hangover Lab. Siamo qua a presentare il nuovo acquisto, Stefano. Gli chiediamo subito come si è trovato in questo primo mesetto, quali sono le sue aspettative e anche il ruolo che ha in squadra. Ti ringrazio, è stato un primo mese abbastanza particolare perché comunque io finora ho giocato a Calcio 11 e a Calcio 5 sono con degli amici. A Calcio 11 naturalmente c'è una preparazione come si deve, a Calcio 5 con gli amici sempre in campionato ma facendo qualche calcetto basso. Qua mi sono trovato veramente bene, abbiamo avuto un preparatore che ci ha seguito durante la stagione forestiva e l'inizio del campionato. Abbiamo fatto qualche partitello interamichevoli, mi sono trovato bene con i ragazzi. Le mie aspettative nella stagione sono inizio qui fare un buon campionato e di non avere infortuni, dato che nella mia carriera della stagione mi capito sempre a me un infortunio e poi mi imparerebbe a conoscere e capire cosa voglio dire con questo. Nel senso che ho avuto vari problemi e il mio ruolo all'interno della squadra, io gioco anche in tutti i ruoli, quindi posso cercare sia l'esempio campista che l'attaccante, preferisco il difensore all'occorrenza ma preferirei evitarlo. Niente, spero che sia una situazione positiva per soprattutto per gli amgoverlado, dato che farò parte di questo gruppo quest'anno e che appunto faremo questo nuovo campionato sia per me che per la squadra e spero che otterremo dei buoni risultati, poi il campo parlerà. Grazie Stefano, direi che è una buona presentazione, speriamo che figli tutto liscio e che sia una buona stagione, quindi forza un'over e ci vediamo in campo. Certo, ti ringrazio, sempre forza un'over e ci vediamo appunto in campo, sarà il campo a parlare. Grazie a tutti.